Voleva trascorrere i mesi estivi sulla riviera romagnola per una bella vacanza pagando in anticipo tre mesi d'affitto per la casa al mare dove avrebbe poi soggiornato. Non si aspettava però che dietro l'affittuario si nascondeva in realtà un truffatore seriale il quale le ha spillato 800 euro. Sventurata protagonista di questo episodio una piacentina di 21 anni che dopo aver contattato su internet il presunto padrone di casa gli ha versato mediante bonifico tre mensilità. Chi avrebbe dovuto consegnarle le chiavi si è però volatilizzato. La giovane si è quindi rivolta ai carabinieri di San Nicolò i quali dopo un'attenta indagine sono riusciti a risalire al presunto truffatore. Si tratta di un 23enne romano con precedenti per truffa. Il ragazzo ha dunque rimediato un'altra denuncia per truffa. Domenica pomeriggio invece i carabinieri sono intervenuti nei pressi di Rivergaro dove era in corso una festa in un agriturismo. Un 26enne ubriaco si è messo infatti a scagliare vasi di fiori contro le auto degli altri invitati. All'arrivo dei militari della stazione di Rivergaro è fuggito nei campi circostanti. In seguito è stato poi raggiunto e denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Sempre domenica pomeriggio i carabinieri di San Giorgio hanno denunciato un piacentino di 43 anni per danneggiamento e furto aggravato. L'uomo disoccupato e con precedenti di polizia il 18 settembre scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale e aveva poi abbandonato in tutta fretta il luogo del sinistro. I militari di San Giorgio hanno avviato le indagini e sono risaliti al piacentino. Quel giorno era lui infatti alla guida della Fiat Doblò e probabilmente ubriaco era andato a sbattere contro un cancello di un'abitazione danneggiandolo. Il furgoncino non era di sua proprietà dato che l'aveva rubato pochi giorni prima. In più era alla guida nonostante avesse la patente revocata.